ciao a tutti ragazzi sono golfina golfetta e oggi vi voglio presentare un gameplay molto particolare perché non lo farò da solo ma sono in compagnia di l'ellozzo 98 ciao a tutti ragazzi abbiamo deciso di fare un gameplay insieme visto che sia a me che a lui piaceva questo gioco e siccome è un gioco che non è neanche più scaricabile perché un fan game non è l'originale è super mario bros x siccome lui aveva ancora il vecchio file ex per per usarlo quindi abbiamo deciso di usarli insieme di provare a giocare a questo gioco tra l'altro ragà a parte il fatto che è un fan game quindi considerabile indie quindi praticamente una piccola cosa per chi magari ci ha giocato non sono stati in tantissimo qualcuno c'è che ci ha giocato potete vedere che in realtà la schermata della home è diversa perché la cambiai tempo fa solo che non rio l'originale quindi devo giocare con questa per forza infatti vedete che è molto allegro diciamo lo sfondo mentre quello iniziale era proprio a cupo o tetro ho deciso di cambiarlo praticamente quindi vabbè ragazzi praticamente giochiamo in due io sono ospite nel canale di golfina faremo una serie spero la più lunga possibile se sarà sarà una buona collaborazione penso andremo molto avanti spero che spero di poter andare molto avanti con questa cosa comunque se non devi dire niente cominciamo sì sì cominciamo ok allora da io prendo Luigi e tu Mario ovviamente come potete vedere sono tutti vuoti gli slot ok partiamo subito quindi ricordatevi le lozzo uguale Luigi e colfino uguale Mario andiamo? eh sto andando mi stavo divertendo un po' ok siamo pronti primo livello super easy drop ok allora se aspetti se aspetti da queste parti c'è sicuramente niente eh niente ti ho fregato sì ma ti ho fregato io ti avevo il fiore quindi potevi sparare ma non puoi sparare stavo di tuoi e ancora chi lo ammazza quello se tu non li puoi sparare complimenti questo è mio così imparare non prenderlo quante ore eh che ho fatto niente dai motolo dolmo dolmo il fungo no 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 non fa niente ce l'ho un fungo no no non fa niente ce l'ho un fungo togiti togiti che sennò arriva quello no 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 sa merda dai su spostati vaffanculo 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 cominciamo davvero bene eh ma io come come morire al primo livello raga vaffanculo eh ma io come con quell'altro con questo ci arrivi senti qui c'hai grazie hai visto era tutto era tutta una combo che morte che ho scampato attenta 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 prendi le monete prendi le monete monete è uguale vita aia e dai è stata bravissima velocissima è purissima e sei calutissima e sei calutissima e aspetta a rientrare che ok prendo il checkpoint vai puoi rientrare il fiore no aspetta qua sotto c'è il fiore no aspetta qua sotto c'è il fiore il fiore no aspetta dai a testo tutto dai 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 su colfino ecco mi sono morto potresti anche sparargli sai non lo prendo io e non a me grazie dopo che l'ho amato pure io? no fortunatamente no a te guarda che pro guarda che pro ecco io giustamente lo devo farmi dare il fiore no? mi sei saltato in testa aspetta 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 non lo toccare questo non lo toccare ok con il colpo solo faccio fuori insieme che a te complimenti guarda non possiamo salire non possiamo fare niente andiamo va e mo qua si complica bello complimenti dai 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 no cazzo sono rinato vabbè vabbè è un corno hai visto che culo che culo è ma l'ho sprecata io la vita che hai recuperato tu vabbè comunque almeno è bene ripresa ok partiamo per il secondo livello io aspetto perchè questo è pericolosissimo nel lozzo in quanto è capacissimo di farti morire come già visto in altri giochi no no non sia mai no attenta perchè? è andata per forza alla sotto attenzione arriva la no 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 guarda no il fungo mi ha fatto no no mi ha fregato grazie ma mi ha fregato ma grazie eh mi ha trollato eh si ma grazie comunque si ma mi ha trollato di solito scendeva a destra vai scende dovevi parare se non è che dai 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 e ogni tanto ho dei problemi a risalire eh vuoi stare qua vicino? ok però ok ma guarda tu che culo fortunatamente c'ero io perchè se non c'ero io era andato anche quello nell'acqua si come quello dai shish dai shish shish the world vieni qua vieni qua ah ecco cosa vuoi fregare come vedete ah vedete l'ho dato prima si è fregato il mio fiore multicolor iiii vuoi facerli cascata eh ma butta mezzo no aspetta ok queste sono alte tecniche di di stupefazione ma guarda che proagine si ops ho mezzo visuale perchè stavo star mutendo no 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 mi sto bene a paralisi dai dai sal io sto sopra tu stai sotto va bene ok come l'ho detto ti aspetto qua io sto sopra e sto sotto aspetta rientro ma che parla a fare che parla a fare ma perchè non posso giocarti vuoi prendere tutto il merito del gioco no è che non volevo morire su che non volevo finire tutto entro le vite questo si che è cattivo dai sei pronto a correre correre si ecco no sono ufficialmente morta roggine roggine bravo one up ragazzi non abbiamo fatto manco i livelli in questo episodio dai è brutto dai aspetta oddio no oddio no il fiore il fiore vaffanculo è mio no sono morta vai via pussa via tu perfetto ti aspetta un po' più aspetta sono da vignore lì ecco come sempre parte in quarta eh ma devo scivolare devo fare la scivolata ma anch'io posso scivolare fai 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 arrivo pure io è una cosa che non faccio aspetta quando dobbiamo quando dobbiamo se no no qua non si scende no di qua pure si scende anzi qua c'è qualcosa aspetta dai una adesso una a sinistra aspetta via insieme oppla no io sono cascato in giro una bomba perfetto che dici posso rientrare anch'io wow abbiamo 5 vite si rientra aspetta beh quelli stanno di là li spostati più di qua ah no non si spostati più di qua dovresti ritornare qua a prendere quello di là se si riesce ehm come cazzo risalgo aspetta fammi salire vediamo se riesci a salire in testa guarda che fio eh eh troppa troppa eh allora io ti dovrei sparare ah ok no 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 è morto bravissimo guarda tutta coccia prego prima le signore non si entra benissimo ok aspetta aspetta di qua e di qua dai beh io ti seguo ah questo non muore cosa aspetta ah e non scendere non scendere non scendere non scendere attento al fiore ok veloce 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 ti è tieni mi scuso tieni 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 non fai niente no non fa niente veloce 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 spara quel fiore visto che tu hai l'arma per favore anche tu ce l'hai ok ok eh eh provaggine 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 e non morire e non mi ti ho salvato la vita di la verità le monete che cascano eh vabbè ma non c'è nessuno a me eh grazie ok allora vi dirò una cosa se vi dovesse mai capitare di fare un gameplay con me no dai non mi puoi fare cattiva no dai state attenti perchè farà di tutto per buttarvi di sotto se ti muovi a rientrare ti do il fiore lì però ti vorresti ecco me lo perdevo io veloce ecco ecco e infatti ti avevo detto che lo perdevo ok sono ufficialmente rimorto stiamo facendo un po' pietà dai andiamo avanti andiamo avanti no aspetta mi fermo qua mi fermo qua no no sto qua dai lascia stare quell'uccellino malefico la tutto è tranne con un uccellino vabbè quello che sia la scimmietta cichita la scimmietta cichita a me sembra un fungo comunque vabbè questa è stata veramente molto ecco quindi hanno fatto un po' di pulizia per l'erlozzo eh vorrei cercare di prendere qualche moneta eh si ma è un po' di trrrr bish bish che culo voi non l'avete visto raga le epi le epi vabbè basta non lo riesco a dire l'epicità l'epicità ecco bish ok mordi entrambi perché perché ma riusciremo ad andare avanti oltre al secondo livello secondo questo è il quarto eh stiamo facendo gameplay da 30 minuti ragazzi riusciremo ad andare avanti di livello o rimarremo vabbè fortunatamente stavo in posizione eh si mi hai soccorto vabbè raga io direi di concludere qui si ma faccio concludere a golfine perché sennò poi ha le smanie di protagonismo vabbè cerchiamo di finire almeno il livello dai su vabbè dai ok imbocca una basta non mi frega più di niente ok basta eravamo partiti bene con cinque viti e siamo morti quindi attenzione ecco non si sa come ti ha fatto a beccare perché bellissimo direi di concludere qui per la no veramente basta si si guardate ragazzi per oggi concludiamo qui perché è stato un dei gameplay pessimi da parte di entrambi quindi ci vediamo ragazzi ragazzi per chi anche ragazze perché non discriminare che non ci possano essere altre ma che palle no sono tutti maschi quelli che vedono i gameplay fidati io invito qualsiasi femmina che vede questo video a commentare giusto per per dire che è il contrario esiste un pubblico femminile ma non esiste per quello ragazze cliccate cliccate e commentate fatevi sentire vi prego vabbè comunque ragazzi piccolissima cosa prima di concludere voglio aggiungere però come avete visto all'inizio per niente abbiamo snobbato e siamo passati subito oltre quel ponticello merdoso tipo corvato in dimensioni estreme e faremo questo tunnel questo qui questo qui esattamente questo perché ragazzi perché si ricollega esattamente al livello dove stavamo prima quello che abbiamo perso 40 volte più o meno quello che avete visto appunto ora ci sapete questo livello qua e poi arriviamo alla allora per oggi è tutto vi lasciamo al prossimo episodio un saluto da Golfina e da Lellozzo98 ciao